SIG 552 commando della Swissarm, fucile perfettamente replicato, fucile a molla con caricatore contenente 60 colpi, dotazione 100 colpi di serie, astina di caricamento per caricatore, fucile interamente in ABS antiurto, caricatore facilmente agganciabile e sganciabile tramite levetta, sicura, S sicura, F a fuoco, anelli per il trasporto dell'arma a tracolla, apertura del calcio tramite bloccaggio, sbloccaggio del calcio tramite pressione, questa parte che vedete qui è in metallo, la sicura è in metallo, il grilletto è in metallo, l'asta di armamento è in metallo, l'asta di armamento viene armata in questa maniera per mettere il colpo in canna e poter sparare dopo aver tolto la sicura. fucile soft tire, ha una cittata come riporta le istruzioni scritte fronte e scatola di 45 metri, il peso si aggira intorno ai 1270 grammi e ha una potenza di 91,4 metri al secondo, inferiore al JAU è consentito dalla legge, dotato di slitte di rai laterali e superiori per agganciare ottiche, torce, laser eventuali, tutto loggato per inciso con loghi originali SIG, maneggevole, facilmente utilizzabile,